Sono il concessionario Volvo della sua zona e le auto sono il mio mestiere. Per questo so che per conoscere e apprezzare una vettura fino in fondo, non c'è che un modo, guidarla personalmente. Non è d'accordo? Parola in più, visto che differenza fa. Ambientale, si rischia emergenza. Tutte le facce mi ricordano la stessa e questa è la mia festa. 9 euro. Agenzia. Bravola. Un dialogo è possibile, con la quale si può portare avanti un dialogo costruttivo. Ecco, oggi sono esattamente... È forte, è forte, è forte. No, in lumea, ancora non... ...intr'un fel, ma è necessario di molto terapia. Medie patente. Le canzoni giuste Forse perché di noi Non ne parla mai nessuno Non ci siamo mai detti le parole Non ci siamo mai detti le parole giuste Neanche per sbaglio Neanche per sbaglio il silenzio La città è piena di fontane La città è piena di fontane